ciao a tutti ragazzi da Kim Farmer siamo qua nella ventitresimo puntata dalla serie texas sulla Pleasant Valley versione 3 e siamo qua alla farm principale ai campi 12 13 e 14 e andremo a trebbiare il mais ma già cominciamo male allora facciamo una cosa aumenta un attimo il tempo ecco e noi possiamo trebbiare tranquillamente togliamo gli add ok oggi puntata di mais facciamo un po' di guida all'interno ovviamente ho seminato tutti i tre campi di mais perché il mais ci occorrerà per portare alla fabbrica del carburante oltre alla fabbrica del carburante anche altre fabbriche che hanno bisogno di mais ok qua solleviamo come potete notare in basso a destra ho messo questa moda che si chiama la trovate sul modcub ufficiale di farming simulator 17 sul sito ufficiale e si chiama add compass che indica i punti cardinali vedete in questo caso sto andando sono all'87,6% direzione est anzi no 86,90 gradi questi sono i gradi allora arrivo in fondo poi faccio un piccolo stacco che vado a cambiare la barra perché almeno andiamo un po' leggermente un po' più veloci ok un piccolo stacco e noi ci vediamo dopo eccoci qua ritornati sono andato a cambiare la barra da mais perché questo almeno va a 16 km orari allora accendiamo qua così almeno facciamo un po' più veloce vedete ovviamente questa qui è una barra da 9 metri quella che c'avevo prima era da 12 era quella ufficiale del gioco ovviamente questa trebbia ha una capacità di 100.000 litri perché l'ho modificata ovviamente questa è un po' più veloce ok Grazie a tutti Grazie a tutti Il simbolo lì dei punti cardinali è ottimo per chi ha il course play Basta che guardate la direzione dove dovete andare E vi resta più facile A impostare Perché noi in poche parole siamo a Siamo a ovest Ovest Nord Direzione est Grazie a tutti Allora facciamo questo campo qua E poi metto l'operaio che noi nel frattempo iniziamo a concimare i campi Così metto gli operai a lavorare Uno con cima e l'altro Ara il campo Poi iniziamo a la prossima puntata Andremo a seminare gli altri campi E ovviamente inizieremo a comprare qualche campo in un'altra fattoria Allora facciamo questo campo iniziamo a comprare qualche campo in un'altra fattoria Per un'altra fattoria Penultima passata Penultima passata E poi metto l'operaio Grazie a tutti Ok Ok Grazie a tutti A posto Ok Premiamo qua Andiamo a posizionare la trebbia nell'altro campo Ok E noi Nel frattempo prendiamo da concimare il campo Qua apriamo Che poi ci occorrerà Allora Vediamo qua se abbiamo Qua non abbiamo niente 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 Abbiamo questo qua Ok Allora facciamo così Ci autotrasportiamo Ci autotrasportiamo Andiamo qua un attimo E andiamo a prendere questo qua E andiamo a prendere questo qua Ok Mettiamo l'operaio qua Cerchiamo di stare un po' più in là Ok Vai pure Noi scendiamo di stare un po' più in là Noi scendiamo di qua Andiamo a svuotare un po' la trebbia No 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 Non andiamo d'accordo C'è operaio Non andiamo d'accordo Stai qua Stai qua Per piacere Ma Quando ti do un lavoro da fare Lo devi finire Ok Ok Allora facciamo una cosa Io metto il course play Abbiamo risolto il problema Allora Lavoro in campo Questo è il campo Campo 15 9 metri Allora Siamo a nord 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 Ovest Direzione sud No C'è qualcosa che non quadra qua Aspetta eh Allora direzione Direzione nord No Sud Sud ovest Scusate Sud ovest Direzione nord Qua Qua devo mettere il campo Qua devo mettere il campo 15 E E E Ok Andiamoci a prendere il camion Andiamo a fare il primo scarico Andiamo a fare il primo scarico C'è un po' Allora andiamo in un'altra fabbrica Mais Alla po' corna Per fare il whisky Ok Allora Io mi autotrasporto Ok Il po' corna È qua E Andiamo direttamente Qua Ok Allora Per andare lì Devo fare questo tragitto qua Poi Devo andare di qua No No Sbagliato Devo andare di qua Ecco Ce la puoi fare E Quella lì È la fabbrica Qui avevo iniziato a A dare un po' di legna Allora Il mais Il mais di qua Ok Come potete vedere Io scarico E lì aumenta Poi abbiamo bisogno Di canna da zucchero E acqua Abbiamo bisogno Delle pere E abbiamo bisogno Delle progne Ok Ok Qua Lo togliamo E qua Ci autotrasportiamo Campo 14 No Non è che sei andato tanto bene Perché io non ti ho detto Ad andando di qua Grazie. Devo aver impostato qualcosa di sbagliato. Grazie. 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 Ciao. 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 Ciao.